A cinque anni ho deciso di cominciare a giocare a calcio, facevo anche nuoto, la mamma mi ha detto però a un certo punto Elena decidi o nuoto o calcio perché non ci possiamo dividere con gli allenamenti e ho cominciato a giocare a calcio in una squadra, l'Atletica Castello. A dieci anni invece ho deciso di cambiare società, di andare nella scuola calcio ad Esolati, che ho preso il nome da un ex societatore della Ferentina. A quindici anni ho fatto il mio esordio in Serie A con la CF Firenze, la vecchia società della Ferentina Women's, è stato un esordio stupendo, me lo ricordo ancora perché mi ricordo anche le fatiche per arrivare fino a lì. A vent'anni ho deciso di andare via di casa, sono andata a Brescia e sono stata là tre anni. In questi tre anni ho vissuto tutto quello che di bello ci può essere nel calcio, vincendo il primo scudetto, la prima Coppa Italia, la prima Supercoppa.